Il corpo di un uomo è stato ritrovato in una campagna di Borgagne, frazione di Melendugno, nella mattinata di martedì 23 luglio. Si tratta di un 82enne del posto che era solito recarsi nel terreno agricolo di sua proprietà poco distante dal campo sportivo. A scoprire il cadavere dell'uomo sono stati vigili del fuoco che si erano avvicinati all'area per domare un incendio sulla cui origine sono in corso accertamenti. Durante le operazioni di spegnimento i caschi rossi hanno effettuato la drammatica scoperta. Riverso sul terreno, ormai privo di vita c'era l'anziano. La sua auto invece era parcheggiata a poca distanza con lo sportello rimasto aperto. Le indagini per far piena luce sulle cause della morte dell'82enne sono affidate ai carabinieri del comando stazione di Melendugno che hanno raggiunto la zona insieme ai vigili del fuoco e ai colleghi della polizia locale. La salma intanto è stata trasportata presso l'obitorio del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria.